Il Cobas Pubblico Impiego parla di battaglia in difesa di diritti e per tutelare gli interessi di coloro che sono risultati idonei al concorso ASREM del settembre 2022 per operatori sociosanitari. Per questo motivo il sindacato con la legale rappresentante Maria Luisa Di Bianco e l'avvocato Vincenzo D'Apolito ha presentato ricorso al TAR e in conferenza stampa a Campobasso sono stati spiegati i motivi. Con delle delibere interne la regione Molise e quindi la legge regionale recependo queste delibere ha ritenuto di far entrare, di assumere i precari che avevano prestato servizio nel periodo pandemico. Tutto ciò fa riferimento al decreto legislativo 2017 e a un concorso pubblico che era stato bandito per il periodo di riferimento dal gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2022. Il problema quale è? Che vengono calpestati i diritti e gli interessi legittimi dei ricorrenti odierni in quanto seppur i risultati idoni al concorso pubblico hanno visto bloccata il loro scorrimento sulle assunzioni con un bando pubblico che è ancora in itinere, quindi in vigore. E quindi vengono calpestati i diritti garantiti costituzionalmente, l'articolo adesso inutile citali, 3,97 della Costituzione e via discorrendo, al cospetto e di fronte a persone che hanno leverato solo in quel periodo di tre mesi tra l'altro nel periodo pandemico. Il ricorso è stato detto per bloccare la stabilizzazione del personale utilizzato a tempo determinato durante il covid e tutelare gli idonei al concorso riguardo nuove assunzioni nell'ASREM. Niente contro questi operatori ha precisato Di Bianco che hanno anche loro diritti ma se è stato bandito un concorso anch'esso va rispettato. Con un concorso per la stessa figura non si può bandire un altro concorso, questo è un avviso ma è sempre una procedura concorsuale per entrare in una pubblica amministrazione. Quindi la gradatoria è viva, deve scorrere al TAR, ci auguriamo che ci dia la sospensiva proprio perché possa permettere l'emissione in servizio degli idoni della gradatoria concorsuale.